Ciao ragazzi, complimenti per la vittoria di ieri, vi faccio un forte in bocca al lupo per la salvezza del campionato, un bacione grande al presidentissimo Piero Vicaroni e mi raccomando trattate bene, anzi benissimo, Luca Grilli che è il numero uno in assoluto e al quale voglio tanto tanto bene. Un bacio, buon anno, ciao!